Dov'è la bellezza? Vanessa ha 22 anni e già mamma di un bimbo di 6. Per lui vorrebbe un futuro sereno, mentre il suo è in bilico alla fine di ogni mese. La sua bellezza è nell'aver trovato il coraggio di chiedere aiuto. La bellezza è in ogni mamma che chiede aiuto. In ogni mamma che si ribella. In ogni mamma che cambia il suo destino. Perché la bellezza di ogni mamma è nel suo coraggio. Perché ogni donna vale. La bellezza di cui si ribella è la fine di ogni mamma che cambia il suo coraggio. Grazie a tutti.